Ci spieghi in che modo si fondono espressività emotiva e composizione esennica? Tutto quello che vedo, tutto quello che sento e che ascolto lo trasferisco nelle mie opere. Che interconnessione c'è tra mondo reale e mondo astratto? Sento, guardo e mi esprimo nel mio lavoro. La prima impressione che ho del mondo è quella che ho dentro. Che cos'è? Come si manifesta il mondo astratto? L'approccio che ho è molto primitivo ed è legato alla geometria. Ho uno stile informale, molto organico. Tutto nasce da un elemento e da quell'elemento trasforma il tutto. Che cos'è per te il tempo e lo spazio? Sono molto introspettivo ma attraverso le mie opere lo trasmetto agli altri come se fosse un atto d'amore. Che cos'è per te l'arte? L'arte è la mia voce. L'arte è la mia voce. Per te cosa rappresenta il viaggio? Il viaggio è il continuamento di un processo. Il viaggio per me è un mix di esperienze che si manifesta nel mio lavoro e che io condivido con gli altri. Lo spettatore come deve approcciarsi alla tua arte? Quali sono le chiavi di lettura? Voglio che lo spettatore tocchi le mie opere perché sono io il primo a farlo. Grazie a tutti.